Aldo Moro diceva nel 1946, seconda sottocommissione, che era indispensabile una disciplina, un controllo e un coordinamento mondiale dell'economia, a livello mondiale, proprio perché a livello globale non devono crearsi grandi accendamenti di capitale che portano alla tragedia che avevamo visto, quindi alla guerra. Questo era scritto, era nero su bianco, anche questo. Qual era l'istituzione internazionale adatta a colpire questo assetto che si è creato a livello mondiale? Era l'ONU, le Nazioni Unite, ma le Nazioni Unite hanno un vizio aborigine. Le cinque potenze vincitrici della seconda guerra mondiale hanno mantenuto il diritto di veto. Se cinque paesi hanno un diritto di veto sul resto della terra, non esiste democrazia. Hai la certezza che prima o poi l'assetto post bellico verrà ridiscusso e come sempre verrà ridiscusso attraverso i rapporti di forza e quindi con il rischio di versare altro sangue, perché a un certo punto o accetti il fatto che la guerra è finita e accetti una democrazia globale, oppure vai verso una catastrofe, perché anche i deboli prima o poi avranno accesso a tecnologie tali da sfasciare e tutto il resto. E in certi casi, piuttosto che rimanere schiavi, qualcuno potrebbe addirittura decidere che è meglio la mutua distruzione, perché questo poi è il rischio che andiamo a correre. Tra l'altro, qui torniamo a una valutazione, una considerazione di diritto costituzionale, se noi prendiamo l'articolo 11 della Costituzione, abbiamo un dato letterale chiarissimo, oggi violentato dai trattati europei, ma comunque che la Repubblica consente alle limitazioni di sovranità, ma solo in condizioni di reciprocità e ai fini di pace e giustizia. L'ONU, con cinque stati che hanno il diritto di veto, di nuovo non serve il principe del foro, non ha le condizioni di reciprocità, perché l'Italia non pesa quanto gli Stati Uniti d'America o la Russia, è evidente. Quindi è chiaro che una limitazione, una compressione della nostra sovranità sulla base dell'ONU non è valida, proprio per questo aspetto. E tra l'altro l'articolo 11, vabbè, questo ricordiamolo, parla di limitazioni che non sono eccessioni. Limitare la sovranità significa contenere un mio potere d'imperio che per ora resta mio. Faccio un esempio, se io faccio un trattato con la Francia, dove dico che limito le mie missioni inquinanti, io ho ancora il controllo della mia politica industriale, semplicemente mi adeguo affinché degli effetti, dell'esercizio e della mia sovranità non vadano fuori confine, creando una situazione spiacevole. Ma questa non è una cessione, perché la politica industriale me la faccio io. Se invece decidessi, in base a un comune trattato con la Francia, per ridurre le missioni inquinanti, che la mia politica industriale, al fine di raggiungere l'obiettivo del trattato, me lo decide qualcuna francoforte, e beh, lì farai una cessione, perché perdo completamente un potere d'imperio. E allora, se torno ai trattati europei, comprendere che nessuno avrebbe dovuto ratificarli, perché è gravemente incostituzionale averlo fatto, basta semplicemente leggere l'articolo 3 di FUE, l'articolo 2, dove c'è scritto che, al 3, l'unione ha competenza esclusiva nelle seguenti materie, due punti e c'è l'elenco, ve l'ho detto, unione doganale, monetaria, economica, eccetera, eccetera. All'articolo 2 c'è scritto, laddove l'unione ha competenza esclusiva, gli stati ciccia, cioè gli stati non possono più legiferare, finito, basta. Questa è chiaramente una cessione, perché io non limito mio potere d'imperio, ma glielo ho dato. Questo è un dato di fatto che non può essere contestato. Tra l'altro in questi anni ho portato avanti cause civili, sono ancora pendenti, siamo in secondo grado, la porterò fino alla Cassazione per cercare di far dichiarare incostituzionali le leggi di ratifica dei trattati, con tutte le difficoltà del caso, perché poi la Corte è politicizzata e quindi se entrano giudici che sono favorevoli, come è stato recentemente al fareggio in bilancio, Barberai e Prosperetti, eletti grazie ai voti del Movimento 5 Stelle, tra l'altro, quindi giudici che espressamente dicono che il fareggio in bilancio è la regola aurea, per cui poco inclini probabilmente a seguire questo ragionamento, allora hai poche speranze. Però intanto l'azione è stata portata avanti. In ambito penale invece addirittura il GIP del Tribunale di Cassino mi ha scritto Nero Su Bianco in un decreto dove è stata sia archiviata una denuncia contro Laura Boldini, però mi ha scritto Nero Su Bianco che c'è delle sovranità e reati. Però non sono cose che finiscono sui media, non vengono dette dai giornali, cerchiamo di far finta di niente. Poi tornando alla parte economica della Costituzione legata al piano industriale abbiamo l'articolo 43. L'articolo 43 è la norma che ci consente e legittima le nazionalizzazioni. Cioè noi non abbiamo un divieto di nazionalizzare nulla, cioè non c'è nulla che non possiamo nazionalizzare. Noi possiamo nazionalizzare qualsiasi cosa che riguardi l'interesse pubblico, perché lo dice la Costituzione. Certo, se io voglio nazionalizzare l'ILVA, cosa che per inciso andrebbe fatta domani mattina, devo scrivere perché lo faccio. Quindi dovrei semplicemente scrivere che l'acciaio e la produzione d'acciaio è interesse nazionale prioritario, ma è prioritario anche non far molire il cancro le persone che vivono vicino alla fabbrica, e quindi spenderò tutto quanto è necessario, farò tutto quanto è necessario per coniugare sia la produzione che la salute. È ovvio che andrò in perdita economica, ma grazie al cielo lo Stato lo può fare, un privato no, un privato per definizione deve guadagnare. Lo Stato può fare spesa a deficit se recupera la sovranità monetaria, a deficit positivi perché batti moneta, quindi non è che stiamo parlando di andarsi a indebitare sui mercati. Ecco, l'articolo 43 lo consente. L'Italia come è diventata grande? è diventata grande con l'IRI. Ecco, questo doveva essere scritto sul programma giallo-verde se vogliamo pensare di salvare l'Italia. Ricostruzione dell'IRI. C'è un piano industriale e nazionale svincolato da logiche utilitaristiche e economiche, ma diretto chiaramente a far ripartire il Paese, ad avere quell'autonomia essenziale nei settori chiave, che è raggiungibile tecnologicamente. Non siamo più ai tempi della seconda guerra mondiale dove effettivamente per alcune scelte di autarchia obiettivamente uno pensava vabbè, invado quella regione perché l'IRI riesco a recuperare magari il carbone o altro. Oggi questo è superato, perché oggi la tecnologia ci consentirebbe di fare passi avanti enormi, soltanto che ci sono ragioni politiche per cui non lo facciamo. Se noi ci liberiamo da queste logiche, lo Stato può farlo il piano industriale, ma il piano industriale finché tu non inizi a prepararlo non puoi andare avanti. Cioè oggi tutti a venerci a dire che per uscire dall'euro è indispensabile la segretezza. Allora, come possiamo ragionare e dire in maniera seria che noi possiamo uscire dall'euro senza dirlo al popolo? Cioè quando tu devi nazionalizzare tutte le banche, credito, devi nazionalizzare gran parte della produzione industriale del Paese, fare provvedimenti mai visti almeno negli ultimi 50 anni in Italia e tu lo vuoi fare senza spiegarlo al popolo in campagna elettorale o prima? È impensabile, non è il consenso, ti impiccano, non lo puoi fare. Questo l'aveva persino detto Borghi a Bruxelles, poi si è dimenticato anche di questo. Cioè la segretezza va cassata, è possibile. È obbligo che avrai delle turbulenze, ma va cassata, non lo puoi fare. Quando Savona scrisse il famoso piano B, la parte economica doveva inserito la segretezza. Io allora agli amici di Scenari Economici dissi, ma come fai a fare un'azione segreta? Che devi fare il piano industriale. Il piano industriale non lo fai senza spiegarlo alla gente, è impensabile. Tant'è vero che ha fatto quasi ridere, almeno a me ha fatto ridere, visto questa cosa la dico da un po', sentire Battarella che dice voi non potete uscire dall'euro, perché mica l'avete detto in campagna elettorale che non potete uscire dall'euro. Quindi gli usa addirittura contro esattamente quella ridicola segretezza che loro hanno detto. Voler attuare, che non ha alcun tipo di senso. Non puoi uscire segretamente, è impossibile. Altro problema, loro ti dicono che devi uscire segretamente perché sennò fuggono i capitali. Mai nei capelli. Ma avete capito o no che la moneta si crea dal nulla? Che se torniamo alla sovranità monetaria, l'Italia è padrona della sua banca centrale. Quindi chi se ne frega della fuga dei capitali? Che cosa mi fa il capitale che se ne va? Sono come i soldi del monopoli, i mini in balza. Cioè il problema è la deindustrializzazione, la delocalizzazione. Sono le industrie che mi spariscono, che passano di proprietà. Ma se mi passano di proprietà e restano in Italia, grazie al 43 le posso nazionalizzare. Se tipo i polli sono tutti olandesi perché gli ha presi l'aia, io posso nazionalizzare l'aia. E quindi se l'aia il giorno dopo mi dice che non ti vendo più il pollo, mi prendo la fabbrica che si è visto, si è visto. E non c'è problema né di occupazione né alimentare. Ma se ha delocalizzato, che cosa faccio? Se ha delocalizzato e quello che sapeva costruire quella particolare produzione, quindi i tecnici, i cervelli, i famosi cervelli che sapevano operare, sono finiti all'estero e lavorano per i cinesi a Pechino, io come la ricostruisco? Io faccio l'avvocato. Non so costruire una fabbrica. Ecco, questo è il danno reale che abbiamo subito. E questo è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare. E si lavora sui numeri, perché il piano industriale, che ora come Casa Pound butteremo giù in maniera dettagliata nei prossimi mesi, il piano industriale comprende un calcolo preciso delle quantità, cioè realmente al tavolo pasta, riso, carne, produzione italiana autosufficiente, sì, no, cosa faccio? Questo devi fare. Se no dall'euro non esce. È un discorso assolutamente banale, quindi cade ogni belleità di strategia, cade, finito, basta. Cioè qui parliamo di gente che non ha mai neanche ipotizzato il piano industriale, ma perché? Io quando ho detto di no all'ingresso in Lega, in un momento in cui la Lega quantomeno diceva che voleva uscire dall'euro, perché ho detto di no? Per un semplice fatto, perché erano liberisti. Che vuol dire essere liberisti? Vuol dire che hai quel mantra, quel dogma, che non deve resistere l'intervento dello Stato in economia, che è il dogma dei stati europei, che vieta gli stati l'intervento in economia. Se lo Stato non interviene in economia, l'exit è impossibile, perché è solo lo Stato per condurre l'exit. Anche qui possiamo farvi un esempio, posso farvi un esempio storico, di cosa significa uno Stato, quindi un unico governo, che coordina l'intera produzione nazionale. Seconda guerra mondiale, per lo sforzo bellico, cosa hanno fatto gli stati? Hanno coordinato l'intera produzione nazionale in una direzione precisa, che era la vita della guerra. Certo, l'obiettivo ultimo non era dei più belli, perché non vogliamo andare a fare la guerra. Ma in quel periodo c'è stato il massimo sviluppo tecnologico che abbiamo visto. Non siamo mai andati così forti a livello tecnologico. Siamo partiti con le eliche, siamo finiti con i razzi. Perché? Perché tutto lo Stato lavorava all'unisono, a un piano industriale coordinato da un governo centrale. Il privato deve fare il privato, ma la strategia complessiva la deve fare il settore pubblico. Non c'è alternativa a questo. Voi pensate in alcuni settori come la sanità, vi ho detto prima, è essenziale la sanità, se no la gente muore. Ma vi rendete conto che la ricerca è tutta in mano privata? Gli stati tagliano, l'Italia ha meno 8% di spesa pubblica, sanitaria, la Grecia ha oltre il meno 30%. Che significa? Significa dare tutto in mano in un settore dove l'interesse pubblico è preeminente, dare in mano a chi vuole solo guadagnare. E per definizione non serve essere complottisti, pro-vax, no-vax, è irrilevante, non è quello il punto. È semplicemente un dato di fatto. Se io guadagno dalle malattie, indirizzo la ricerca in una certa direzione. Cioè se io guadagno da un farmaco molti soldi per trattare una malattia e mi arriva un ricercatore che dice guarda che con questa strada secondo me guariscono in metà tempo o debelliamo una grave malattia, tu gli dici sì ma quella roba lì quanto costa? E magari questa roba qui è un prodotto naturale che costa niente. È col cavolo che faccio ricerca. Quindi non è una logica di complotto dove ti vogliono ammazzare. No, assolutamente. È una logica puramente commerciale. Dove io investo, dove ho un interesse economico. Quindi ci sono settori che per definizione non possono andare in mano privata. Perché se no ovviamente sei spacciato. Ecco, un partito liberista per definizione, un partito che ti dice che bisogna ridurre le tasse ai più ricchi, è un partito che non potrà mai fare le cose che servono. Non potrà mai. E lo stesso Movimento 5 Stelle è quel poco che diceva in questo senso, perché il 5 Stelle originario, iniziale, che infatti ho votato all'inizio, aveva qualche accenno antiliberista, sfumato completamente. Si sono rimangiati praticamente qualsiasi cosa. Addirittura ultimamente Di Maio sull'infrastruttura ha detto no no, Grillo dice delle cavolate, decido io, le infrastrutture si faranno. Quindi al di là di come la pensi significa sconfessare tutto quello che era la linea originaria del partito. Questo è il problema di fondo. Tra l'altro, il fatto che la nostra Costituzione ci legittimi in questa direzione ha creato l'aggressione che è stata fatta esattamente alla nostra Carta Costituzionale. Perché c'era la paura che effettivamente a un certo punto usassimo quello che potevamo fare a livello giuridico in una certa direzione. Perché se tu non avessi il 43 in Costituzione e improvvisamente dici nazionalizzo mezzo paese, c'è chi potrebbe vedere quest'azione quasi come un colpo di Stato. e reagire a livello internazionale come si reagirebbe a un colpo di Stato. Magari anche con la forza, anche con la forza militare. Se invece tu lo fai in base a una Carta Costituzionale e quindi in maniera completamente legale, diventa molto più difficile attaccarti da quel punto di vista. Hanno però in mano, e questa è l'arma che userebbero perché l'hanno usata con la Grecia e la stanno usando con il Venezuela, il fatto che il sistema dei pagamenti mondiale è privato. Cioè, non è tanto in discussione il valore della lira in caso di exit. Perché se fossero solo logiche commerciali, ovviamente non avrebbero interesse a svalutare troppo la lira. Perché sennò, avendo ancora una produzione importante, anche se danneggiata da questi anni, ma avendo ancora una produzione importante, noi conquisteremo un sacco di mercati. E quindi, gli altri non potrebbero vendere i loro prodotti, dovrebbero invece comprare i nostri, acquisterebbero lira sul mercato per comprare i nostri prodotti e la lira salirebbe di valore. Quindi non potrebbe svalutarsi in maniera drastica secondo logiche commerciali. Se tu stampi nel deserto, non crei niente, ma un paese fortemente industrializzato come il nostro, che è ancora una potenza, non avrebbe nulla da temere dal punto di vista economico sulla svalutazione in caso di exit. Ma loro possono dirti, da domani, che tu non puoi fare né un pagamento, né ricevere un pagamento sull'estero, perché il sistema di pagamento internazionale è privato. È loro. Il Venezuela oggi, che problema ha? È vero, è uno Stato che non aveva la produzione che abbiamo noi. È uno Stato che importava quasi tutto. È uno Stato che viveva sulle esportazioni di petrolio. Crolla il petrolio, muore lo Stato. Ma è un problema reale, per cui ora sono veramente in difficoltà ed diventa anche il mezzo per cercare di fare un colpo di Stato ed istituire chi non vuole finarsi al potere internazionale. È legato al fatto che il Venezuela è bloccato sul sistema dei pagamenti. Non è un problema quanta valuta puoi creare, è il problema che è vietato fare un bonifico verso il Venezuela ed è vietato fare un bonifico dal Venezuela fuori di Venezuela. Questo gli hanno fatto. Solo questo. Alla Grecia è uguale. Quando Varoufakis spiegava il problema di allora è che non avevano il controllo di niente. Aveva addirittura spiegato che persino il sistema di pagamenti dell'agenzia entrata greca era in mano al sistema europeo delle banche centrali. Quindi neppure lì potevano intervenire. Ecco perché ho apprezzato molto quella parte del programma di Casa Pound che sta scritta prima, tra l'altro che potessi parlare di queste cose con Simone perché l'ho conosciuto dopo. Quindi ho apprezzato che Casa Pound di sua sponte sia già arrivata alle mie stesse conclusioni. È impensabile uscire dall'euro senza la completa nazionalizzazione del credito. Di tutte le banche commerciali, tutte che devono continuare a operare perché è un'attività utile all'economia e al prestito al consumo e per investimenti ma deve farlo lo Stato e nazionalizzarle significa anche avere hardware e software perché a quel punto hai il controllo dei terminali. Loro ti possono isolare ovviamente dal resto del mondo ma almeno a livello interno sei a posto. Hai già tutto funzionante poi ti resta da stampare la carta moneta quello ci vogliono sei mesi. Motivo per cui giudicavo demenziale anche l'idea dei mini bot perché se tu preparassi mini bot con l'ottica di lasciare l'euro Bruxelles ti spara dopo un secondo sia perché nei trattati tutta la politica monetaria degli stati aderenti all'euro è di competenza UE quindi hanno subito gli argomenti giuridici per fermarti sia perché soprattutto ti possono prima che tu hai stampato la prima camionata di mini bot ti possono immediatamente bloccare l'acquisto di titoli di Stato e tu non hai nemmeno i soldi per pagare le pensioni e gli stipendi a fine mese quindi tu non puoi andare a discutere o trattare con quello che ha il bazooka cioè pensare che questi ti lasciano fare i mini bot se non sono già sicuri del fatto che alla fine tu aderirai gli stati d'Europa o seguirei una certa linea è un po' come dire durante la seconda guerra mondiale vado da da un mio nemico e gli dico scusa mi presti le tue fabbriche che devo fare le armi con cui poi ti voglio sparare è demenziale e l'avevano passata come colpo di genio sono cose che se divento volgare ti fanno veramente cadere le cosiddette perché non ha alcun senso soltanto ipotizzare un discorso di questo tipo quindi l'exit è necessariamente un piano industriale e non c'è altro poi ovviamente abbiamo come dicevo prima l'articolo 47 che ce lo impone anche lì perché se la Repubblica deve disciplinare coordinare e controllare il credito devo riprendere il controllo del credito e non farmi controllare dal credito poi dopo lascio un po' di spazio magari qualche domanda visto che ho già un po' che parlo però voglio chiudere leggendovi un passo di Keynes perché magari chi ascolta dice hai una visione economica che insomma non è attuale ai nostri tempi il problema è che sono i nostri tempi di essere sbagliati ed è quello infatti che dobbiamo cambiare perché il padre della macroeconomia diceva esattamente quello che dico io oggi né più né meno quindi ha dimostrazione che l'economia è solo questa questo è il brano è Autarchia Economica un testo del 1929 il secolo XIX aveva esagerato sino alla stravaganza quel criterio che si può chiamare brevemente dei risultati finanziari quale segno dell'opportunità di un'azione qualsiasi di iniziativa privata o collettiva cioè faccio attività semirente in sostanza tutta la condotta della vita era stata ridotta a una specie di parodia dell'incubo di un contabile invece di usare le loro moltiplicate riserve materiali e tecniche per costruire la città delle meraviglie gli uomini dell'ottocento costruirono dei subborghi di catapecchie ed erano d'opinione che fosse giusto e opportuno costruire catapecchie perché le catapecchie alla prova dell'iniziativa privata rendevano mentre la città delle meraviglie pensavano sarebbe stata una folla estravaganza che per esprimerci nell'idioma imbecille della moda finanziaria avrebbe ipotecato il futuro sebbene non si riesca a vedere a meno che non si abbia la mente obnubilata da false analogie tratte da un'inapplicabile contabilità come la costruzione oggi di opere grandiose e magnifiche possa impoverire il futuro d'altronde non mi risulta che il debito pubblico italiano dipenda dal colosseo dall'acquedotto romano le opere del passato non impoveriscono il futuro questo Keynes lo scriveva ancora oggi io spendo il mio tempo in parte vanamente ma in parte anche lo devo ammettere con qualche successo a convincere i miei compatrioti che la nazione nel suo insieme sarebbe più ricca se gli uomini e le macchine disoccupate fossero adoperate per costruire le case di cui si ha tanto bisogno piuttosto che non essi siano mantenuti nell'ozio ecco viviamo sopra le nostre possibilità ci dicono è vero è vero ma non per la spesa pubblica perché teniamo mezzo paese disoccupato persone che potrebbero lavorare per sistemare per tante cose che non vanno nel mondo reale vengono lasciate in operose queste vivere sopra le nostre possibilità prendo il segno ma le menti di questa generazione sono così offuscate da calcoli sofisticati che se diffidano delle conclusioni che dovrebbero essere ovvie e questa ancora per la cerca fiducia che hanno in un sistema di contabilità finanziaria che mette in dubbio sull'operazione del genere renderebbe noi dobbiamo restare poveri perché essere ricchi non rende noi dobbiamo vivere in tuburi non perché non possiamo costruire dei palazzi ma perché non ce li possiamo permettere la stessa norma tratta da un calcolo finanziario suicida regola ogni passo della vita noi distruggiamo le bellezze della campagna perché gli splendori della natura accessibili a tutti non hanno valore economico noi siamo capaci di chiudere la porta in faccia al sole e alle stelle perché non pagano dividendo Londra è una delle città più ricche che ricordi nella storia della civiltà ma non si può permettere i massimi livelli di civiltà di cui sono capaci i suoi cittadini perché non rendono se oggi avessi il potere gli metterei decisamente a dotare le nostre capitali di tutte le raffinatezze dell'arte della civiltà ognuna la più alta è perfetta in qualità nella persuasione che potrei permettervi tutto ciò che potessi creare questo è il punto noi possiamo permetterci tutto ciò che siamo capaci di creare sarebbe bello e tutt'altro che folle in un programma nazionale che prevede il ritorno dello Stato in economia dire che noi ad esempio in 15 anni vogliamo colonizzare Marte ma perché no? perché cosa hanno fatto prima? noi dobbiamo sognare e operare verso il sogno non accettare la logica dei inutili contabili e quindi dire figuriamo possiamo spendere i soldi per questo se abbiamo forza da lavoro che può occuparsi di questo perché non dovrebbe farlo? non abbiamo limiti reali e questo darà una spinta ho fatto l'esempio di Marte che è un po' elevato non possiamo creare qualsiasi tipo di esempio anche più basso che potrebbe essere fatto diventare il motore per una certa azione collettiva che deve essere di sviluppo e di progresso anche perché insomma se pensiamo di venire al mondo per guadagnare consumare crepare forse abbiamo veramente sbagliato tutto tanto vale buttarsi dalla finestra subito e abbiamo un senso nella logica di un progresso collettivo che andiamo a fare come genere umano stesso quindi la logica di nulla e contabile è veramente uno spreco della nostra vita e nella fiducia che il denaro così speso non solo sarebbe preferibile a ogni sussidio di disoccupazione dice Keynes cioè che è meglio spendere il denaro per questo piuttosto che darli a disoccupati che vogliamo tenere noi disoccupati perché questo è il punto non è che Keynes non voleva aiutare i disoccupati involontari cosa già prevista nella nostra costituzione dice semplicemente che non c'è bisogno che restino disoccupati se sono in condizioni di lavorare possono lavorare ma renderebbe appunto i suissidi di disoccupazione superflui con quello che abbiamo speso in Inghilterra dalla guerra in poi in sussidi di disoccupazione avremmo potuto fare delle nostre città i maggiori monumenti dell'opera dell'uomo 1929 o anche per fare un altro esempio sino a poco tempo fa abbiamo considerato come un dovere morale di rovinare i lavoratori della terra e distruggere le secolari tradizioni collegate all'agricoltura solo che potessimo ottenere un filo di pane mezzo centesimo più a buon mercato non c'era più niente che non fosse il nostro dovere sacrificare a questo idolo perché noi fiduciosamente credevamo che l'adorazione di questi mostri avrebbe vinto i mali della povertà e condotto la prossima generazione sicuramente comodamente in sella gli interessi intrecciati verso la pace economica oggi noi soffriamo una delusione non perché siamo più poveri di quello che eravamo al contrario anche oggi in Inghilterra almeno noi godiamo di un tenore di vita più elevato che noi in altra epoca ma perché ci pare che altri valori siano stati sacrificati e perché ci sembra che siano stati sacrificati senza necessità i sacrifici non servono l'austerità non serve infatti il nostro sistema economico non ci permette davvero di sfruttare al massimo le possibili ricchezze che l'economia ci offre grazie ai progressi della tecnica resta anzi ben lontano da questo ideale e ci fa sentire come se avessimo potuto benissimo usare tutto il margine disponibile in tanti e altri modi più soddisfacenti e poi la stoccata finale ma una volta che ci siamo permessi di disubbidire al criterio dell'utile contabile noi abbiamo cominciato a cambiare la nostra civiltà e noi dobbiamo farlo molto prudentemente cautamente e coscientemente perché c'è un ampio campo dell'attività umana in cui sarà bene che conserviamo i consueti criteri pecuniali ed è la distinzione tra famiglia e Stato la famiglia fa il bareggio bilancio lo Stato no è lo Stato invece piuttosto che l'individuo che bisogna cambi i suoi criteri è la concezione del ministro delle finanze come del presidente di una specie di società anonima che deve essere respinta ora se le funzioni e gli scopi dello Stato devono essere di tanto allargati le decisioni riguardo a ciò che parlando grossolanamente dovrà essere prodotto nel paese e che dovrà essere ottenuto in cambio dall'estero dovranno essere tra le più importanti della politica di questo si dovrebbe parlare in Parlamento del tipo di peri industriale che vogliamo di dove vogliamo andare di come vogliamo usare la sovranità monetaria non che dobbiamo essere commissariati perché noi non siamo capaci questa è una scusa che serviva solo a loro perché le elite con la sovranità monetaria ci controllano e sono quattro stronzi perché in definitiva ormai sono poche famiglie a cui abbiamo delegato il 99% della ricchezza mondiale e il controllo del mondo famiglie che però ovviamente finanziano i vari partiti ecco e noi viviamo in questo incubo perché siamo degli ignoranti questo è il problema di fuori vi ringrazio grazie